ciao a tutti oggi voglio farvi vedere con questo video tutorial un'altra sciarpa molto molto veloce molto facile da fare anche questa la sto realizzando per uno ragazzo però ovviamente lo sapete poi noi abbiamo la fortuna di poter utilizzare l'abbigliamento da uomo cosa che gli uomini raramente possono fare quindi diciamo che una sciarpa unisexy studiata per un uomo io ho montato con il mio filato quello beige quello che uso anche per la sciarpa che vi ho fatto vedere nel tutorial precedente quella tridimensionale questo filato sport di lana sport da lavorare con l'uncinetto dell'8-9 io utilizzo un uncinetto numero 8 e realizzo una catenella lunga quanto voglio lunga la mia sciarpa dopodiché io in questo caso ho realizzato una catenella di 150 maglie perché non la voglio eccessivamente lunga anche se viene bella lunga poi ovviamente voi vi ripeto potrete decidere di farla lunga quanto volete e a seconda di quanto lo volete lunga avviate un numero di catenelle sufficiente una volta che avrete terminato la vostra catenella la ricoprirete tutta quanta di maglie basse quindi andrete a lavorare tutte le vostre catenelle a maglia bassa fino al termine del giro il primo giro di punto coste e tutti i giri successivi si eseguono nello stesso modo andando a puntare l'uncinetto nella catenella nella costina posteriore del punto per il primo punto facciamo una catenella andiamo a lavorare direttamente sul secondo e ve l'ho fatto vedere tante volte ma una volta in più non guasta quando ne lavoriamo la nostra maglia bassa andiamo a prendere il punto intero con le due costine in questo caso andremo a lavorare solo ed esclusivamente la costina retro quindi faremo tutto un giro di maglia bassa in costa retro prendendo solo la costina posteriore del punto in questo modo e lavoriamo tutto il giro una volta che avremo terminato il giro voltiamo facciamo un'altra catenella volante e andiamo a lavorare nello stesso identico modo quindi andiamo a lavorare tutte le nostre maglie basse prendendole in costa dietro quindi la costina posteriore del punto quella anteriore formerà la costa vedete adesso lavorate quanti giri volete fino arrivare alla larghezza desiderata dopodiché procederemo con le rifiniture della nostra sciarpa ecco qui io ho terminato di realizzare la mia sciarpa in altezza non la faccio troppo troppo spessa perché altrimenti essendo già un filato molto grosso lavorato a punto coste risulta ancora più più grosso per quanto sia morbido però ovviamente rimane più ingombrante rispetto a un altro filato e più che un altro filato un altro tipo di lavorazione vedete le cosse sono molto molto belle sono lavorate in lunghezza rispetto alla lavorazione a maglia e sono molto molto carine sono uguali davanti e dietro un punto double face double face e poi però come sempre vi spiego io vi faccio vedere il mio progetto perché io in questo caso lo devo realizzare in un determinato modo e poi voi lo adatterete alle vostre esigenze quindi se voi utilizzate un filato più piccolo un uncinetto più piccolo o lo stesso filato ma la volete fare più grande non farete altro che aumentare le righe di lavorazione la farete alta quanto vorrete io in questo caso faccio le frange della mia sciarpa in questo caso faccio proprio le frange però di un altro colore perché questo è un progetto doppio nel senso devo fare sciarpa e cappello il cappello lo farò bordo con i bordi color crema color panna chiaro e le frange in questo caso della sciarpa le farò bordo quindi prende un filo bordo sempre grosso e taglio aiutandomi con un con un supporto in questo caso io un pezzetto di di plastica poi anche in questo caso vedrete voi quanto lunghe farle le vostre frange io le farò non esageratamente lunghe anche perché vi ripeto questo questa è una sciarpa da uomo il mio supporto è lungo 9 cm 8 cm a 8 quindi va bene e andrò ad avvolgere un bel po di di fili di lana intorno al mio supporto così e procedo con avvolgere il il mio filo intorno al supporto una volta che avrò avvolto un numero sufficiente di volte il filo intorno al supporto andrò a tagliare il filo e a tagliare uno dei due da uno dei due lati separerò il filo così adesso prendo a seconda di come voglio spessa le spesse le mie frange un paio di fili e se non questo un filato spesso un paio bastano li piego a metà vado sulla punta della sciarpa inserisco l'uncinetto all'interno di uno dei punti porto dentro in questo modo nella metà piego metà lo aggancio con l'uncinetto lo porto dentro allargo con le dita prendo le i figli e li faccio passare attraverso in questo modo così vedete prendo altri due fili e faccio la stessa cosa li posiziono piegati a metà entro nella maglia successiva e faccio la stessa identica cosa inserisco le dita all'interno dell'asola prendo i fili e li faccio passare dall'altra parte prendo altri due fili il sistema dritti li piego a metà entro nel punto successivo li aggancio li faccio passare attraverso la maglia entro con le dita nell'asola ed ecco qui e procedo così fino a riempire quanto mi va di frange la mia sciarpa una volta frangiata una delle delle parti procederemo col frangiare anche l'altra una volta che avremo terminato di frangiare la nostra sciarpa avremo terminato il nostro lavoro questo è un progettino molto molto facile molto molto veloce che per il natale che sta arrivando è una manna nel senso se vogliamo fare un pensiero che sicuramente è gradito a un amico o un'amica poi vi ripeto questo progetto è stato studiato per una sciarpa da uomo ma è perfetto anche per una donna voglio dire non è come vi dicevo all'inizio una donna può indossare l'abbigliamento da uomo spesso è più difficile il contrario io ho messo le frange bordeaux ovviamente voi sceglierete il tipo di franga il colore di frangia che più vi piacerà se volete proseguire con lo stesso colore della della vostra sciarpa farete la stessa identica cosa che abbiamo fatto con questo con questo colore lo farete con il vostro bene il tutorial è terminato io vi ringrazio come sempre per avermi seguito spero che l'amica che mi ha chiesto la sciarpa da uomo a costa all'uncinetto sia soddisfatta del progetto visto che lo dovevo realizzare anch'io ho unito le due cose bene io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo tutorial ciao ciao